si ragazzi vi presento skull questa facciotta qua in questo gioco siamo dei teschi messicani che cercheranno di conquistare il mondo ma no non è vero niente stiamo solo cercando di fregare gli altri giocatori in un gioco di blef andiamola a vedere ci siamo ragazzi allora oggi vi farò vedere un esempio di gioco a tre giocatori quindi abbiamo il rosso il blu e il verde la scatola tutto ciò che contiene sono delle basi e dei dischi per ogni giocatore ci sono quattro dischi se li girate avremo tre fiori e un teschio e questa è la nostra mano vediamo come funziona il gioco allora come prima cosa tutti i giocatori devono scegliere una delle loro tessere e piazzarla sul loro disco quando tutti avranno fatto ciò il primo giocatore mettiamo che sia il rosso dovrà guardare la sua mano e mettere o un'altra tessera sul suo disco oppure chiamare una sfida se mette un'altra tessera sul suo disco la posizioni in modo che si veda che ce ne sono due e gli altri giocatori possono o aggiungere al disco oppure chiamare sfida cosa succede se il giocatore di partenza o un giocatore qualunque chiama la sfida lui dirà sfida è un numero quindi potrà dire sfida 1 vuol dire che sta sfidando gli altri giocatori che lui riuscirà a rivelare una carta fiore il secondo giocatore dovrà o alzare la sfida oppure passare spostando il disco fuori dal dal suo matt il terzo potrà o rilanciare la sfida dicendo ad esempio sfido 2 o sfido 3 quindi aumentarla anche più di uno oppure passare se tutti passano lui girerà il suo e ha completato la sua sfida perché la sfida sfido 1 e quindi aveva scommesso che sarebbe riuscito a girare un fiore quando tocca risolvere la sfida deve girare prima tutte le sue tessere quindi se ad esempio ne aveva due deve girare tutte le sue tessere poi deve andare a pescare dagli altri quindi mettiamo ad esempio che lui fosse sfida 3 e gli altri hanno passato vi deve girare prima le sue due e ha due fiori per arrivare a 3 deve andare a girare uno degli altri e quindi pesca il verde che ha fiore se becca tre fiori prende un punto quando prende un punto gira sul lato nero se prende il secondo punto ha vinto la manche se invece avesse beccato un teschio quindi i suoi due fiori più il teschio deve andare a scartare una delle sue delle sue tessere casualmente scelta dal giocatore che ha messo il teschio mettendo che questo giocatore faccia sfida 2 ad esempio e gli altri passano lui deve girare prima le sue per forza gira e ha messo teschio quindi diciamo che ha bleffato nel caso ci sia teschio tra le carte che rivela lui potrà scegliere quale scartare e quindi senza farlo vedere agli altri ne scarterà una e dopo giocherà con tre dischi ok facciamo un esempio di gioco allora io vi farò le parti del rosso allora il rosso gioca così ora sceglierò le carte per gli altri giocatori ok tutti ne hanno scelto una e ora tocca al rosso che quindi come abbiamo detto può o alzare oppure sfidare e lui decide di alzare la mette così che si veda che sono due il blu può rialzare oppure sfidare il blu sfida 1 ora che la sfida è in corso possono solo alzare la sfida o passare non si può più aggiungere tessere sfida 1 il verde dice beh cacchio il blu sfidato 1 se ha messo un fiore sotto e passiamo tutte e due sicuramente farà un punto facile quindi io provo e sfido 2 il rosso che sa quello che ha giocato passa il blu invece sfida 3 il verde potrebbe sfidare 4 perché ci sono una due tre quattro tessere in gioco quindi potrebbe ancora farcela se tutti hanno giocato fiori però passa e quindi rimane il blu con sfida 3 la prima cosa che deve fare è rivelare prima tutte le sue e lui ha fiore e poi ha sfida 3 e quindi pesca dal di qua ed è un teschio niente quindi prende le sue carte le mescola e fa scartare al rosso una di queste ok e ora incomincia il blu o meglio prima come al solito tutti ne giocano una vi faccio vedere il rosso il rosso gioca questa ora che hanno giocato anche gli altri giocatori il blu può decidere se alzare oppure sfidare lui rialza il verde vediamo rialza il rosso rialza e blu sfida 2 il verde sfida 3 il rosso passa e il blu sfida 4 il verde passa perché non se la sente di girare quattro fiori e quindi parte il blu il quale gira e ha due fiori ha sfidato 4 quindi deve riuscire a girare quattro fiori e pesca una qua ok ecco deve sempre girarle in ordine quando gira le sue le deve girare tutte quando gira quelle degli altri puoi anche pescare una di qua e una di qua però deve partire sempre dalla più alta e poi gira qua e sono quattro fiori fa punto perché è riuscito a fare la sfida quindi fa punto gira la tessera di qua ora vi faccio vedere un'altra mancia ancora ora tocca al giocatore verde io intanto vi faccio sempre vedere il rosso che giocherà così ok tutti hanno giocato tocca al verde il verde copre il rosso copre il blu sfida 1 e verde allora dice sfido 2 il rosso passa il blu sfida 3 il verde sfida 4 e blu passa perché il rosso ha già passato quindi il verde ha sfida 4 gira sono due fiori poi gira questa tre fiori e poi gira questa è un teschio e quindi ha beccato il teschio fa scartare a caso al blu una di queste tessere e dopo per fortuna ancora il teschio perché se lo scarta si ritrova solo con i fiori invece così è ancora scelta di gioco il gioco va avanti fino a che tutti i giocatori non hanno quando un giocatore non è riuscito a portare a casa il secondo punto prima si gira la tessera e poi oppure se un giocatore elimina tutti gli altri perché chiaramente quando vengono scartati tutti i dischi dalla mano ne rimane uno se viene scartato questo giocatore è eliminato e quindi potete procedere sia facendo punto sia cercando di togliere tessere agli altri giocatori questo per skull è tutto è un gioco fighissimo il tema degli scheletri del giorno dei morti messicano è molto bello ma non c'entra nulla col gioco perché avete visto che è un gioco di blef molto semplice le tessere devo dire che sono veramente fantastiche però vi ricordo quando portate questo gioco fuori in birreria con gli amici prendete dietro le cesoie perché il primo che usa questi come sottobicchiere gli potete tagliare le mani grazie per aver visto il video e a presto grazie per aver guardato il video